... Numero 12 di Michele, squalificato. Daggerapid attacca il leader, sta passando il numero 2 Daggerapid, in terzo di fronte, in vantaggio il numero 2 Daggerapid, in seconda il numero 5 Dottorex, poi per consigli esterni anche il 4, Dieterlozzak, Daggerapid, Dieterlozzak, Dottorex in quarto al numero 3 Dockstorff, in vantaggio il numero 2 Daggerapid, premia i suoi bianchi, il numero 4 Dieterlozzak, in terzo al 5 Dottorex, poi ancora in corda il numero 11 Dukaev, quindi per consigli esterni Davis B. Daggerapid, in vantaggio Daggerapid, si è accodato nella sua scia, Josh Febeck al sediolo di Dieterlozzak, Daggerapid, Dieterlozzak, in terza, sempre il numero 5 Dottorex, quarto in fuori il 3 Dottorex, poi l'11 Dukaev, quindi in fuori il 14 di... Numero 9 Desert Bip, squalificato Sempre in vantaggio Daggerapid, nella sua scia rimane Dieterlozzak, passaggio davanti alle tribune, si è voltato dietro a Cubellini a controllare la situazione delle sue spalle, Daggerapid, Dieterlozzak, potremmo dire, sta controllando gli avversari, Daggerapid in vantaggio, secondo all'esterno numero 3 Dockstorff, terzo in corda il 4 Dottorex, quarto in fuori il 14 Dottorex, poi il 5 Dottorex, quindi il 16 Dottorex, poi l'11 Dukaev, quindi il 7 Dottorex, poi l'11 Dukaev, quindi il 7 Dottorex, quindi il 7 Dottorex, Scega Dieterlozzak, poi all'esterno in terza posizione il 3 Dottorex, Daggerapid al comando, mancano 800 metri al traguardo, frazione in 32 e 2, Daggerapid in vantaggio, secondo in fuori Dottorex, terzo in corda, Dieterlozzak, quarto all'argo il numero 14 Dottorex, Daggerapid continua al comando, nella sua scia, sempre Dieterlozzak, scoperto sempre all'esterno numero 3 Numero 17 Dexter B, squalificato Prova a migliorare anche il numero 6 Dolby Deymar, che ha trovato però l'anticipo del numero 16 Diorz, a sua volta anticipato dal 14, Daggerapid in vantaggio al numero 2 Daggerapid, in seconda al numero 14, Daggerapid ha sbagliato, Daggerapid in vantaggio Daggerapid Numero 3, Duxforf, squalificato Daggerapid, Davis B, poi Numero 6 Dolby Deymar, squalificato Daggerapid al comando, nella sua scia, Dieterlozzak, Daggerapid, Dieterlozzak, poi a centropista Davis B Numero 7, da sempre par, squalificato Non c'è storia, Daggerapid, Dottorex e per il terzo, Ducca F, all'attacco